Abruzzo Abruzzo Dalla terra al mare Edizione speciale in questa puntata Siamo all'Aurum di Pescara Questo è un edificio storico Che un tempo ospitava una distilleria Dove si produceva l'Aurum Un liquore che si chiamava proprio così Oggi è un contenitore di eventi Puntata speciale dicevo Perché parleremo di vino In occasione del Pescara Abruzzo Wine Voi sapete che il vino rappresenta Un comparto importantissimo Dell'agricoltura della nostra regione Vogliamo saperne di più Vogliamo degustare virtualmente Con voi il Montepulciano Il Cerasuolo, il Trebbiano Conoscere gli autoctoni Che caratterizzano la nostra produzione vitivinicola E dunque Abruzzo Dalla terra al mare Edizione Pescara Abruzzo Wine E in questa puntata speciale di Abruzzo Dalla terra al mare Siamo con l'architetto Nino Catani Che organizzatore di Pescara Abruzzo Wine Intanto com'è nata questa iniziativa? Questa iniziativa risale nel 2003 Su iniziativa di Gianni Melilla Allora Presidente del Consiglio Comunale Nicola Mattoscio Presidente della Fondazione Caripe E di Luigi Arbore Mascia Che insieme a me abbiamo dato vita A questa idea concorso Il premio Pescara Abruzzo Wine Ha il sottotitolo Premio Vino e Cultura Ogni anno, oltre ai vini Selezioniamo un testo a livello nazionale Che parla di vino in maniera esauriente Quanto è importante il vino per l'Abruzzo? È la produzione principale di tutto il settore agricolo? Direi decisamente di sì Il vino abruzzo è importantissimo Ma anche il vino abruzzese è importante per l'Italia Diciamo che l'Abruzzo produce l'1% della produzione mondiale E a livello nazionale rappresentiamo un po' di più del 6% Considerate che il Montepulciano è la seconda bacca rossa coltivata Diciamo che il quadro è sostanzialmente positivo Ed ora venite con me nella sala degustazione Per questa puntata speciale di Abruzzo dalla terra al mare Come sono divisi i vini secondo i tavoli di degustazione? Iniziano con i vini bianchi Con il Trebbiano Pecorino Passerina e Coccciola E quest'anno abbiamo anche il Montonico Vitigno Autocro Abruzzese Con tutte e due le aziende Che producono il Montonico Sia nella versione ferma che sfumatizzata I presenti possono degustare a qualunque banco di degustazione Il sistema è quello del Grape Besed Quindi riunito per vitigno Ma da quest'anno abbiamo aggiunto una sensibile novità Che riguarda gli ICT rossi In quanto parecchi enologi si sono cimentati Uscendo dal disciplinare del Montepulciano E facendo dei tagli con altri vitigni rossi ammessi In particolare il Merlot, il Primitivo, il Sangiovese Vengono aggiunti in misura che non è più riconoscibile la doc Ma diventa ICT Però sono vini comunque di altissima qualità Insomma una bellissima vetrina per i vini abruzzesi Sicuramente sì Cento cantine partecipanti Come definisce il nostro caro Luca Maroni Il vero vinite dell'azienda abruzzese E il vino ci racconta tanto Il vino ci parla del terreno, della storia, della fatica, del lavoro, della passione Noi vogliamo proprio portarvi a far conoscere meglio Tutto ciò che c'è dietro l'etichetta Tutto ciò che c'è dentro il bicchiere di vino E che lo stesso vino ci racconta E' perciò che il vino va degustato, non va bevuto Adesso degustiamo insieme i vini Che caratterizzano la produzione della nostra regione Allora iniziamo questa degustazione di Montepulciano Abbiamo Emiliano Romagnoli Che è addetto commerciale, responsabile commerciale Di una cantina abruzzese E che cosa stiamo gustando? In questo momento degustiamo Montepulciano d'Abruzzo In purezza Nonché questo Montepulciano E' il vitigno autocono percellenza dell'Abruzzo stesso Per molti anni abbiamo esportato questo vino Per tagliare altri vini Sia italiani che esteri Ma negli ultimi anni Molte cantine abruzzesi Hanno rivoluzionato il loro mercato La loro vinificazione Producendo ottimi prodotti di qualità E negli ultimi anni esportiamo Migliaia di bottiglie in tutto il mondo Con grandi successi a livello enologico Se lo assaggia lei ci dice quali sensazioni Ci regala questo Montepulciano in purezza A livello visivo Un bel rosso intenso Con ancora un'unghia violacea Quindi un vino che può ancora maturare Dal coro del tutto E una riserva Note caratteristiche di frutta matura Con del finale di vaniglia Del pepe Un vino morbido Rotondo Con un giusto tannino Che riusciamo a sentire Nella ghiera dei denti E questo permette Con degli abbinamenti di carne In particolare A darci una bella sensazione di pulizia E un giusto abbinamento A esaltare sia il prodotto Che stiamo mangiando E sia il vino che stiamo degustando Abbinato al piatto stesso Vedete quante cose ci sa raccontare Un bicchiere di vino Quante sensazioni sa darci Ecco in questa puntata Vogliamo farvi conoscere di più Il mondo del vino E anche di farvi apprezzare Di più il mondo del vino abruzzese Adesso brindiamo col Montepulciano E fra poco passeremo Ad un altro colore Ad un altro gusto Ad un'altra sensazione Continuiamo il nostro percorso Alla scoperta di un altro colore Di un altro vino Di un'altra sensazione Che sa regalarci Abbiamo il Cerasuolo Esatto Abbiamo un Cerasuolo d'Abruzzo Quindi un vino prodotto Unicamente con le uve Di Montepulciano Ed è importante Sottolineare questo aspetto Perché ancora c'è qualcuno Che fa un po' di confusione Possiamo anche vedere Insomma Che il colore di questo Cerasuolo È il tipico colore rosato Rosa Cerasuolo Definito proprio in questa maniera Per la sua carica di colore Rispetto magari a un rosato Che invece si presenta Spesso con delle sfumature Molto più delicate La differenza fra rosato e Cerasuolo La differenza è che come le dicevo Il Cerasuolo è prodotto con uve Di Montepulciano esclusivamente Il rosato può essere prodotto Anche con uve di altre tipologie Abbaccarossa ovviamente Quindi un rosato può essere Di Sangiovese, di Merlot Di qualsiasi altra tipologia Di vitigno a baccarossa Quindi insomma Le caratteristiche olfattive Sensoriali, gustative Di un Cerasuolo Sono senza dubbio Il colore che è la cosa Assolutamente più interessante Al naso I profumi sono quelli Della ciliegia Dei frutti rossi Anche non eccessivamente maturi Molto spesso I Cerasuoli presentano Un'acidità molto piacevole Molto interessante Sono vini comunque Che hanno una struttura Molto importante Il motivo è che Il nostro vitigno principe È un vitigno che anche In una versione più scarica Di colore Comunque riesce a cedere Delle caratteristiche Che lo rendono Anche come il rosato Per usare un termine generico Sicuramente di struttura Infatti è un vino Che possiamo abbinare Anche a piatti Insomma Interessanti Vediamo il sapore La degustazione Facciamola fino in fondo La facciamo fare virtualmente Ovviamente Però insomma Ci racconta ancora una volta Queste sensazioni Che ci ha elencato All'assaggio Ritroviamo quello Che già nel naso Abbiamo percepito Quindi la freschezza Di questi frutti rossi La freschezza Di questa ciliegia L'acidità Che comunque rimane persistente Piacevolmente Temperatura Con la quale gustare La temperatura Per quanto riguarda Il cerasuolo Possiamo avere Una scelta Di temperatura Seconda anche Con il piatto Con cui lo abbiniamo La temperatura ideale Diciamo Sarebbero intorno Ai 10 gradi Facciamo il cin cin Io continuo a brindare Però non a gustare Assolutamente Salute Ilaria e Annantuono Sommelier E siamo davanti A un bianco Un trebbiano Un trebbiano In questo caso Abbiamo un trebbiano In pietra Parliamo sempre Di un prodotto Di un vitigno Secondo in Abruzzo Per la sua diffusione Era un antico vitigno Utilizzato anche un po' Per il taglio Invece è stato Negli ultimi anni Riscoperto anche In purezza Nell'utilizzo Di diversi prodotti Facciamo questa degustazione Virtuale In questo caso Abbiamo un profumo Ricco di frutta Abbiamo Sentiamo fiori E essendo un vitigno Che riesce a crescere In qualsiasi altura Sia al mare Che in montagna Abbiamo un prodotto Ricco Ricco di profumi E questo è l'esame olfattivo Adesso andiamo Ad assaggiarlo È un vino molto sabido In questo caso Ancora più sabido Del normale Perché Utilizzano Delle vasche in pietra Per il loro Per il loro riposo Con cosa lo abbiniamo? E in questo caso Lo abbinerei Ad un Antipasto di pesce Sicuramente fruttato Magari una tartare di tonno O delle capesante Magari con Dei frutti esotici Temperatura? Temperatura Ghiacciato Come ogni bianco Andrebbe servito Sempre più Più freddo Facciamo il brindisi Allora Io lo faccio con la mascherina Un piacere Perché lei è solo per il Per brindare simbolicamente Soprattutto anche a tutti coloro Che ci stanno seguendo Grazie Grazie a lei E nell'ambito di Pescara Abruzzo Wine Si è parlato anche Di sostenibilità Di innovazione Pierluigi Diodoro Lei ne ha parlato In un incontro Con diversi operatori Sì Abbiamo fatto un evento All'interno di Pescara Abruzzo Wine Dove abbiamo invitato Tecnici Clienti Noi ci occupiamo Di Impermeabilizzazioni Bonificamento Energi rinnovabili E di conseguenza Abbiamo aderito Alla manifestazione Dell'architetto Catani Appunto per Presentare Le nostre Lavorazioni I nostri interventi Che facciamo Anche Nei riguardi Delle cantine E quando si parla Di sostenibilità ambientale A che cosa si pensa? Noi utilizziamo Anche dei materiali Che vengono Prodotti Con Degli scarti Di lavorazione O addirittura Dei materiali Riciclati Da altri cantieri Proprio per Dare una mano All'ambiente Che in questo periodo È messa a dura prova Ma quante cose Sto scoprendo E vi sto facendo Scoprire In questa Trasmissione Specialissima Di Abruzzo Dalla terra Al mare Un'altra cosa Che ho scoperto Che l'Aies È associata Alla Corporazione Saperi E sapori Sì La Corporazione Dei sapori È costituita Da un gruppo Di professionisti Diciamo Attenente Al campo Della produzione Agricole E dell'agricoltura Che cerca In tutti i modi In tutti i suoi Vari modi operati Di affiancare Il discorso Vitivinicolo In toto Sia aziende agricole Che cantine Che i vini Quindi Opera in un ambito Più ampio Di quello abruzzese Perfetto Infatti Diciamo Che noi Siamo strutturati Come zona Sulla stessa zona In cui Fortifica E prolifica Il vitigno Montepulciano D'Abruzzo Cioè Anche nel Molise Anche se i vini Ottenuti nel Molise Dallo stesso Vitigno Montepulciano D'Abruzzo Non possono Chiamarsi Montepulciano Però Diciamo È la stessa uva Come pure Al di là del tronto Nelle marche I due grandi vini Rossi Marchigiani Rosso Viceno E Rosso Conoro Hanno per situare Del 75% Di Montepulciano Per cui La corporazione È una cosa anomala Diversamente Da tutte le altre Organizzazioni Che operano In sede Regionali Noi siamo Una zona Abbiamo definito La zona Adriatica In cui Dove c'è il Montepulciano Operiamo anche noi Adesso lasciamo Questo bellissimo edificio E andiamo a scoprire Chi sono i vincitori Scelti dalla gente Dalla giuria popolare Sapete bene Che chi ha degustato I vini Oltre ad aver Devoluto Una piccola quota Che è finalizzata Alla ricostruzione Della pineta di Pescara Purtroppo danneggiata Dal famoso incendio Del primo agosto Ha anche espresso Un parere Su quali sono i vini Che ha maggiormente Gradito E allora Vediamo chi ha vinto Andiamo a vedere Le premiazioni Il Trebbiano Della Cantina Tili Il Pecorino Della Cantina Vilma E la Passerina Della Cantina Agriverde La Cococciola Della Cantina Frentana Il Montonico Della Cantina Valente Il Cerasuolo Della Cantina di Orsonia Il Vino Rosato Di Feudo Antico Il Montepulciano Cantina Torri Il Montepulciano Riserva Cantina Costantini Antò 2015 Il Rosso IGT Cantina di Orsonia Bucefalo Il Bianco IGT Collefrisio IGT Terredichieti Bollicine Eredile Gonziano Il Miglior Vino Colline Terramane Il Risultato Cantina Colonnella Montepulciano Riserva 2016 E il Miglior Packaging Della Bottiglia Cantina Inverso Ma ora vediamo I Premi Speciali Della Delegazione Aies Delegazione Adriatica E Nell'ambito di Pescara Abruzzo Wine L'Aies ha premiato Per l'editoria Il tema vino Il Trattato Elementare Di Vinificazione Di Manfredi Tricca Cosa si racconta In questo libro? Come nasce? Bene Questo trattato E' nato All'improvviso E' venuto fuori Dalle mie antiche Carte di famiglia Un antico manoscritto Che ho ritrovato Probabilmente erano Carte del mio bisnonno Che era un viticoltore Dei primi del Novecento E quindi L'ho ripreso L'ho rispolverato L'ho rivisto L'ho un po' Diciamo Approfondito In taluni Punti essenziali E quindi L'ho dato alle stampe Che cosa Ho potuto vedere? Io pensavo Di fare un trattato Comparato Di enologia E di viticoltura Tra L'Ottocento Ed oggi Ma ho visto Che l'autore Coppa Zuccari Appunto Di Città San D'Angelo L'aveva già fatto Era un uomo Straordinario Che aveva girato L'Europa Aveva visitato Le migliori Realtà Enologiche E viticole Della nazione E soprattutto Della Francia Della Spagna E aveva portato Nella sua azienda Di Città San D'Angelo Le migliori tecniche Le aveva mescolate Con il suo Sapere E saper fare Ed è uscito fuori Questo trattato Dedicato Un po' A tutti Gli appassionati E i viticoltori E i viticoltori Del tempo E quindi Se lo andiamo A leggere Con attenzione Vediamo Che noi Siamo andati avanti Con il progresso Con l'innovazione Nella ricerca scientifica Ma in effetti I veri principi Dell'enologia E della viticoltura Rimangono Quelli che erano Ed è un premio speciale Per la Cantina A Tollo Lorenzo Sospiri Lo sta consegnando Proprio a Berna Di Cantina A Tollo Beh sì È un premio Molto importante Infatti È intitolato Miglior Vino Monumento La ragione fondamentale Per la quale È particolarmente Grata la regione In questo caso A Cantina A Tollo E con questo vino Si sono raggiunti Quantitativi di vendita Ovvero di conoscenza Di un territorio Talmente tanto importanti Da avere una dimensione Internazionale Più che nazionale Intanto Complimenti a Cantina A Tollo Per averci creduto Complimenti al presidente Congratulazione A tutti i viticoltori Gli agricoltori A tutti coloro i quali Con grande difficoltà Hanno creduto A questo progetto Quando è iniziato Oggi è facile crederci Ma Allora era Più complicato Perché ci tengo tanto A consegnare Questo premio Perché è uno stimolo A tutta la nostra regione Che è una piccola Grande regione Innanzitutto A crederci Perché è una piccola Non vuol dire Che debba accogliere Piccoli obiettivi Una piccola regione Può accogliere Anche grandissimi obiettivi E' importante credere Nella cooperazione Vera Che funziona Nelle cantine sociali Che ci credono Che investono Che fanno crescere Un territorio E quindi Credendo in questo progetto Per me È come credere In tutta la regione Abruzzo In tutti coloro Che hanno in mente Di iniziare un percorso Che oggi può sembrare Molto difficile Ma domani Come nel caso Del Colle Secco Rubino Può diventare Un grande successo internazionale Grazie La serietà di Manociole Presidente Una piccola regione Una piccola regione Che può fare grandi cose Dove si può sognare E realizzare sogni Sì E' una piccola regione Che attraverso Il La base iniziale Cioè il prodotto terra Può diventare E sognare Di diventare Una grande regione Una grande regione E competere Con le regioni Più blasonate di noi Perché hanno cominciato Molti anni prima di noi A scommettere Sul prodotto vitivinicolo Sulla vigna E sulla terra E sull'operato Dell'uomo Perché il vino Al contrario Di una balestra È un corpo vivente Quindi ha bisogno Di tutto l'amore E la passione Dell'imprenditore agricolo Di primo livello Quando noi Oltre 40 anni fa Facemmo attraverso Uno studio Del Montepulciano D'Abruzzo Insieme ad agronomi Ed enologi E si pensò Di mettere in pista Questa etichetta Che oggi E' veramente L'onore Per l'azienda Che mi onoro Di rappresentare Un obiettivo Irraggiungibile E oggi Noi siamo Impegnati Più di allora A cercare Di mantenere Quell'identità Distintiva Che questo Oggi si chiama Colle Secco Rubì Ma per le vicissitudini Legislative Abbiamo dovuto Appreviare A Colle Secco Rubì Però è sempre La madre È sempre la stessa La voglia di fare bene La voglia di crescere E di essere L'ambasciatore Nel mondo Del Montepulciano D'Abruzzo Attraverso Quest'etichetta E se si lavora bene Anche etichette Più giovani Possono migliorare La redditività Di questo territorio Ci vuole Convinzione Coraggio Impegno Di risorse umane E finanziarie Enrico Cerulli Relli Ha appena ritirato Dalle mani del Presidente Il Consiglio regionale Lorenzo Sospiri Questo premio Come migliore azienda Vitivinicola dell'anno Motivo di grande soddisfazione Certamente Di grande soddisfazione Perché il riconoscimento Del lavoro Di tutti noi Per tanti anni Ed è piacevole Ogni tanto Avere un riconoscimento Anche se sappiamo Che non è L'arrivo E c'è ancora Tanto lavoro da fare Però ogni tanto Fa molto piacere E ringraziamo L'Aies Per questo pensiero La sua azienda Ha una lunga storia? L'azienda agricola Ha una storia Abbastanza lunga Di qualche generazione La cantina però Ha una storia Più recente È la storia Di un rilancio Dell'azienda storica E attraverso L'ingresso Di nuove energie Come me Almeno Quando ero ancora Un po' più giovane Quasi vent'anni fa E poi Chissà Forse le future generazioni Quindi Sì è stata Un'esperienza Di Continuazione Di tradizioni Della famiglia Carlo Masci C'è una partecipazione Che mettono Tutti i vitivinicoltori Per dare questi ottimi prodotti Ha premiato Due aziende Sì Perché In Abruzzo Il vino Non è soltanto Un elemento eccezionale Gastronomico Il vino In Abruzzo È una gemma preziosa Del territorio È una nuvola Di passione Del vino C'è filosofia C'è il cuore C'è il sentimento C'è veramente tanto E c'è molto di più Del semplice Elemento gastronomico E questo mi piace Sottolinearlo E con questo ringrazio Tutti i viticoltori Perché Riescono a portare Il brand Abruzzo In giro per l'Italia E per il mondo Con un vino eccezionale Che ogni anno Mette in evidenza Delle qualità incredibili E questo grazie Al lavoro Di tanti Che sono sul territorio Che lo fanno crescere Che coltivano Non soltanto La terra Ma anche la passione Per la propria terra Carlo Maggitti Dirigente Promozione delle filiere Della regione Abruzzo In questo evento Dove si parla di vino Lei ha anche premiato Un'azienda poco fa Il vino È una forza Della nostra regione Assolutamente sì Anche dai numeri Che si sviluppano Quotidianamente Il volano E il traino Della regione Abruzzo È un volano Di continua evoluzione Che effettivamente Ci permette Di essere conosciuti Apprezzati Anche Ormai Oltre frontiera Nei paesi terzi Gestisco Direttamente Anche quello Che è il programma Di promozione Nei paesi terzi E quindi Grossi incentivi Grossi monumenti Che giungono Alle aziende Vitivinicole Abruzzo Sì che oggi Stanno Un po' Cambiando La loro pelle Non soltanto Produttori di vino Ma veri e propri Imprenditori Non solo Nell'agricoltura Ma nel turismo Nel benessere Ciò che comincia A richiamare Tantissime persone Anche nelle nostre terre Che non ha bisogno D'altro che essere Viste e conosciute Per poi innamorarsi Spesso non sappiamo Cosa sia l'Abruzzo Magari dal punto di vista Culinario Il vino E l'ottimo cibo Si può sperare Di fare Un ottimo tramite Per ricevere Tanti Tanti turisti Tanti turisti E l'Abruzzo Mio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.